Ad aprile è stato rilasciato Moodle 4, l'attesissima nuova versione di Moodle LMS. Le novità per amministratori, docenti e studenti sono tante e tutte estremamente interessanti. Abbiamo quindi chiesto a Andrea Bicciolo di raccontarcele. Per i pochi che nella comunità di Moodle non lo conoscessero, Bicciolo è il fondatore e direttore di MediaTouch, l'unico Moodle partner italiano. Inoltre membro del consiglio direttivo di IUM, l'associazione italiana utenti Moodle. Andrea, intanto grazie per la disponibilità e per prima cosa ti chiederei Quali sono le principali novità di Moodle 4? Innanzitutto Gianluca, grazie di questa occasione, di questa intervista, grazie a te, grazie ad IUM per avermi invitato. Allora, novità di Moodle 4. Moodle 4 novità sono davvero tante, ma ce n'è una che è la principale, che è il ridisegno della interfaccia grafica e dell'esperienza utente in linea generale. Questo significa che l'esperienza dell'utente è diventata più consistente sia per l'esperienza dello studente, sia per il docente e sia anche per l'amministratore che trova tutta una serie di vantaggi. Consistenza non solo nel percorso e quindi trovare più facilmente le cose che vanno fatte, ridurre le ripetizioni per chi allestisce i corsi, far capire allo studente che cosa deve fare successivamente, dopo aver completato una certa cosa, e anche per l'amministratore perché ci sono stati dei miglioramenti sotto vari aspetti. Tra le altre cose la consistenza non è soltanto nella navigazione, ma anche tra dispositivi e quindi l'interfaccia è completamente responsive, lo era anche prima ma adesso è ancora più coerente sia su dispositivi mobili sia su tablet e questo chiaramente è un grosso vantaggio. Inoltre ci sono due elementi che mi sento di citare rapidamente e sono l'integrazione di BBlueButton che è un complemento importante perché significa che adesso in modulo in qualunque installazione è disponibile anche la stanza di videoconferenza, anche se limitata a 25 utenti, comunque è sempre un valore aggiunto non importante, e l'integrazione di Report Builder, cioè la possibilità di ottenere report di tutto ciò che è successo nella piattaforma per numerosi utenti o per uno specifico utente. E questo chiaramente è un grosso passo in avanti perché effettivamente la mancanza di questa possibilità si sentiva e costringeva gli amministratori o a trovare soluzioni alternative, magari di plugin più o meno pericolosi che si trovano nel public domain, oppure andare nel sviluppare qualche cosa, oppure andare in tutti i corsi, che era sicuramente un'ipotesi meno felice di tutti. Passiamo alla seconda domanda. Ci sono eventuali criticità nel passaggio da Moodle 3 a Moodle 4? Allora, sicuramente quelle che i software giovani, ogni serie 3, 4, 2, introducono le grosse novità, le grosse differenze, quindi è inevitabile che ci possono essere delle sbavature all'interno del software. Però non credo che il problema sia tanto questo, quanto più che altro il cambiamento che, come abbiamo detto poc'anzi, Moodle 4 introduce nell'interfaccia grafica. Questo richiede sicuramente una preparazione per le organizzazioni che usano Moodle versione 3, 3.9, 3.11 o 3.10, che sono le attuali versioni supportate, per i quali suggerisco un periodo di assofazione, anche se usano dei componenti che non fanno parte dell'istribuzione ufficiale per essere certi che la migrazione non abbia problemi bloccanti da un punto di vista anche tecnico. Chiaramente per chi inizia il problema non si pone, perché oramai Moodle 4 è già stato rodato abbastanza, la maggior parte delle sbavature sono state risolte, e quindi chi inizia oggi sicuramente può con serenità partire con Moodle 4. Benissimo, un'ultima domanda, quali sono le altre novità da Moodle HQ? Allora, Moodle HQ, novità ce ne sono tante, naturalmente approfitto di questa domanda più ampia per aggiungere una componente che nella prima domanda non avevo detto, e cioè che il percorso di costruzione, di ricostruzione dell'interfaccia, della user experience è cominciato con Moodle 4, non è ancora completo, sarà completato con la versione Moodle 4.1, quindi ecco, è un viaggio che Moodle sta facendo verso il miglioramento della interfaccia grafica. Ma al di là di questo, aggiungo anche che esistono in Moodle 4 delle interazioni importanti, ad esempio con MoodleNet. MoodleNet è una comunità di docenti, di amministratori, eccetera, volta alla condivisione di esperienze e di contenuti. Quindi da qualunque versione di Moodle 4 sarà possibile agganciarsi a Moodle 4, caricare e condividere i contenuti, così come scaricare e utilizzare contenuti disponibili in MoodleNet. L'altro elemento molto importante che voglio citare è l'aspetto formativo, e cioè la formazione amministratori, formazione sviluppatori, formazione per gli utilizzatori di Moodle, parlo di docenti, parlo di gestori di corsi, di manager di piattaforme, eccetera, che sono stati e che saranno sempre di più messi a punto nella Moodle Academy, che è il nuovo sito di Moodle specifico per la formazione. Benissimo, grazie Andrea per la consueta chiarezza e esaustività. Direi che possiamo salutarci e darci appuntamento a Settembre Orbino per Moodle Mood Italia 2022, dove torneremo a parlare ampiamente di Moodle 4. Senz'altro, molto volentieri ci vediamo ad Urbino, Moodle Mood è fortunatamente tornato in presenza, speriamo che si mantenga così, perché è un momento di condivisione molto importante. Grazie di questa intervista Gianluca e grazie ad IUM per avermi ospitato.